Bentornato! Sera! 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 Chiediti, Flavio! Sera! Eh, e da quando sei... Boh, sì! Non ci siamo più visti! Non ci siamo più visti! Come stai? Bene, tu! Bene! Devo dare adesso la musicità! No, abbiamo ancora un po' di tempo! Allora, io bene, abbastanza bene! Sera! Tu anche, direi! No, sono uguale a lui! Sei lui! Di lei? Non ancora! No, perché prima c'era solo una giornalista! Tu non hai un fantasma! Ieri so che è stata una giornata speciale in casa Bria Sera! Mia moglie è mia! Domani ci sarà un piccolo porno! Dove inviterei compagni di scuola di asilo! E in Kenya anche! 3-4 giorni al mese! Ma tu lo chiami Nathan o Falco? Fatan! E quindi ci sono due fazioni! Sì! Ciao! Ci sono anche! Ecco! Questa è un attimo! È un attimo! E quindi ci è un attimo!